Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi di questo fantastico prodotto, ossia delle cuffie True Wireless Bluetooth di TronSmart, o per meglio dire auricolari. Auricolari che hanno un suono davvero eccellente, ma prima di mostrarvi gli auricolari e parlarvi delle caratteristiche tecniche, vediamo nella confezione che cosa si cela. La confezione è abbastanza compatta e si apre praticamente a scatto, vedete? Si apre e al suo interno trovate gli auricolari in prima fila qui, praticamente, la scatolina che li contiene e li ricarica, poi se rimuoviamo questo, vi è una serie di ricambi per le cuffie, per gli auricolari, vedete? Il cavetto QSB che ovviamente adesso non c'è e manuale di istruzione e garanzia. Il funzionamento è davvero molto semplice, come vedete, anche se non comprendete la lingua inglese, vi è una serie di immagini che vi mostra appunto il funzionamento del prodotto. Qui è come indossarli, quindi li indossate normalmente e poi li girate per adattarli alle orecchie. Qui vi dice che si ricaricano con il porta auricolari di cui vi parlerò a breve e che ve lo mostro e così via dicendo. Qui invece vi sono una serie di istruzioni da imparare a memoria perché gli auricolari non hanno pulsanti ma sono touch, quindi con tre tap, quindi ta 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 praticamente, li accendete, li spegnete, aumentate il volume, lo diminuite e così via dicendo. Questo sostanzialmente per quanto riguarda il contenuto della confezione. Adesso vediamo ovviamente il prodotto. Il prodotto è questo, questa è la scatolina che li contiene e che li ricarica e non solo, permette la sincronizzazione attraverso la connettività bluetooth. Come vedete vi è un led che indica il funzionamento degli auricolari, la ricarica e la sincronizzazione. Infatti come vedete ogni tanto si accendono gli auricolari. Per sincronizzarli via bluetooth con lo smartphone, il tablet e così via dicendo non vi è un pulsantino da premere e tenere premuto per diversi secondi come avviene di solito con gli auricolari ma bisogna tenerli nella confezione e poi dal telefono cercarli. Una volta che li avete sincronizzati potete ovviamente utilizzarli. Per sincronizzarli è molto semplice. Li inserite all'interno della scatolina della confezione qui, li rimuovete subito e li cercate. Infatti come vedete adesso gli auricolari si accendono e diciamo possono essere sincronizzati. Vedete nella confezione la luce era rossa perché erano in carica e diciamo in stand by allo stesso tempo mentre rimuovendoli dalla confezione sono in abbinamento. Si ricaricano ovviamente agganciandoli qui dentro correttamente ovviamente così vedete e poi collegando il cavetto che trovate nella confezione che poi è un normale cavetto mini usb. Il funzionamento è semplice una volta che li avete sincronizzati basterà indossarli e tappando su questo simbolo praticamente potete aumentare, diminuire il volume, passare dalla modalità cancellazione del rumore ad un'altra e così via dicendo. Gli auricolari sono wireless, sono bluetooth, hanno una qualità audio davvero soddisfacente considerando poi il costo attualmente di 100 euro che non sono pochi assolutamente quindi diciamo la qualità c'è ed è compensata anche dal costo. Hanno un volume abbastanza alto, sono in grado di cancellare i rumori esterni, potete attivare due modalità. La prima è quella proprio immersiva che vi permette di ascoltare la musica e alienarvi dal mondo esterno. La seconda modalità vi permette di ascoltare sempre la musica ma allo stesso tempo udire anche i rumori che provengono dall'esterno. Magari state correndo e volete ascoltare la musica ma allo stesso tempo ascoltare ciò che accade attorno a voi per questioni di sicurezza oppure magari vi trovate a casa distesi sul letto e volete immergervi completamente allora attivate l'altra modalità. Potete attivarla con il tap qui su praticamente perché non è un pulsante fisico, è touch, è a tocco. Infatti nella confezione come vi ho parlato prima ci sono le istruzioni da imparare a memoria qui dove vi viene indicato quanti tap dovete fare a seconda poi dell'operazione. Quindi a sinistra fate una cosa, a destra ne fate un'altra, se tappate in un certo modo aumentate il volume, diminuite e così via dicendo. Ovviamente non sono solo auricolari per ascoltare la musica ma potete anche utilizzarli per parlare. Infatti montano ben udite udite sei microfoni come riportato anche nella confezione e sono alimentati da un processore Qualcomm. Con una sola carica ci fate ben 30 ore. Ovviamente la durata della batteria aumenta o diminuisce a seconda del tipo di utilizzo e se li tenete abbastanza nella scatolina diciamo e vanno in stand by con una carica ci fate anche di più. È un prodotto abbastanza buono, anzi direi più che buono ma è costoso. Cioè 100 euro non sono pochi. Ovviamente ci sono prodotti sul mercato che hanno un costo maggiore però insomma si tratta di un prodotto davvero ottimo. Io ci sono rimasto sinceramente non mi aspettavo una qualità del genere. Premetto che TronSmart fa buoni prodotti tra mouse e altri tipi di hardware. Però insomma quando si tratta di auricolari true wireless vi è sempre qualche dubbio ma vi posso assicurare che sono comodi da indossare. La qualità c'è. Io personalmente se avete 100 euro da spendere e io vi consiglio di acquistarli perché non ve ne pentirete sono davvero ottimi sia per riprodurre la musica attraverso lo smartphone il tablet o altri dispositivi utilizzando la connettività bluetooth e wireless sia per dialogare con qualcuno attraverso lo smartphone tramite gli auricolari stessi quindi senza avere il telefono in mano. Utili soprattutto durante le attività sportive potete utilizzarli ovviamente con qualsiasi dispositivo che supporta la connettività bluetooth quindi una volta sincronizzati potete utilizzarli per ascoltare l'audio direttamente tramite questi piccoli auricolari che diciamo sono comodi da indossare come vi ho detto a differenza di altri che magari escono dalle orecchie vi cadono a terra questi diciamo reggono o perlomeno con me non ho avuto problemi diciamo restano nelle orecchie ecco non non sono invasivi scomodi da indossare alla lunga e sono abbastanza comodi quindi personalmente io vi consiglio l'acquisto che ovviamente è disponibile su amazon ad un costo attualmente ovviamente perché potrebbero scendere di prezzo ma attualmente hanno un costo di circa 100 euro